di clickbait del cazzo detto questo, oggi voglio parlarvi di Morgan Rose di cui ho già parlato in un altro video che è tra i miei batteri si è preferiti e voglio farvi conoscere il lavoro che ha fatto con la band chiamata I Empire è una band in cui ha suonato, se non sbaglio, anche Will Hunt o meglio, Will Hunt ha scritto questa canzone col gruppo ma per motivi di tour, eccetera le batterie le ha registrate Morgan Rose e sentite che brano Morgan Rose di seconda fra poco parte il video dove si vede che si registra a un minuto, quindi avete pazienza ma vale la pena ascoltarci tutto il pezzo black in spirit, unworthy no compassion within the devil catches a glimpse of an unfortunate soul let the games begin you don't get what you want you just get what you need ok, ritorno è troppo bello per stopparlo cioè ascoltiamo occhio ai piatti che sono chiusissimi cioè strettissimi veramente un decay più rapido ma ne rompi due a canzone però tra l'altro sta canzone c'è anche fatta da Will Hunt che è un pochino diversa due grandi batteristi guardatela perché notate poi la differenza stilistica tra i due questa volta sul Charleston è bella difficile ma a chi si chiede non a me questi mid tempo come li fa lui piacciono un casino a me a me Grazie a tutti Il mio sogno è riuscire a fare dei mosh con questo gruppo Tra l'altro ci ascoltiamo anche un altro pezzo No, era il mitico Super Mosh Che era questo Poi ci sembra mille da vedere suoi Faccio qua eh Grazie a tutti Per tutti quelli che Magari non hanno dimestichezza con sta roba Fate registrarvi suonando roba così lenta E vedrete quanto generalmente farete schifo Me comprendo Ho dovuto imparare a suonare lento E sto ancora imparando Poi hanno il velocissimo I lenti mi piacciono un casino E richiedono un altro proprio tipo di approccio Grazie a tutti Bello Ho beccato anche l'altro pezzo Lui che registrava C'era un altro pezzo Questo Ho beccato anche l'altro pezzo C'era un altro 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 pezzo Sappiate che quando mi vedete a suonare con un gruppo di questo tipo di musica, sarà sempre stato il mio sogno, cazzo, sempre stato desiderato a suonare proprio così. Mi direte, ma come? Sì, sto invecchiando, ma ho sempre dovuto suonare questa roba. E che non ho mai avuto la pazienza per imparare questo tipo di roba in questo modo. Lui incarna proprio perfettamente quello che secondo me è la batteria nel contesto musicale. Cazzo, fa sempre cose fighe, non esagera mai ed è sempre interessante quello che fa. E dà veramente un valore aggiunto alle parti di chitarra e alle parti vocali. Quindi ragazzi, questo era un altro video fighissimo di Morgan Rose. Ripeto, oggi abbiamo saputo della morte di Taylor Hawkins. Mi dispiace, ma in questo canale non facciamo questo tipo di speculazione, perché io non sono fatto così. Oggi ne parlerò con gli amici eccetera eccetera. Mi sono limitato a una story su Instagram perché mi dispiace, era un batterista straiconico. Ma a speculare con la sua immagine oggi non è il caso. Un abbraccio e a presto, ciao. Dimenticavo, un like, un commento, attetta la campanella e iscriviti al canale. A presto, ciao. Dimenticavo, un commento, attetta la campanella e iscriviti al canale. Grazie.